musica 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 ma perché non ho tirato ma sono stupido per la caserna ho tradito la caserna siamo fatti sovrappegare della caserna ora ci declassano un malissimo ispettore dici che 3 è un problema importante ma c'è la bomba ma che non sa ma poi non siamo scegli noi siamo una fusione tra carabinieri e polizioni noi siamo la giustizia sono pazzo sono pazzo del messia proteggeranno casandrino casandrino abbate dove stabbia ma è adacchistato che ho fatto i maglietti o teni sono gli attreri ma questi i maglietti lo fanno venire in attacco epilettico valere buonasera benvenuti a tutti in un nuovo video del black nonno il club non mi stavo saltando solo io che sarei male nessuno grande guarda guarda già ci troviamo in sintonia siamo 2 contro 4 non vorrei dirlo ma va fanculo incominciamo incominciamo questi c'hanno giocare questi toscano no 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 questo è stato no 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 in gmino saltare gli scuso johnson marci ecco rossi f ho già detto malano ma ti ricordi a chi luco il più destra che hai fatto? scusare l'eponoro quella della trovo ah si ma li abbiamo fatto a ricordare signore stare malo eccolo fissare malo sbaglia tutto stare malo attenzione il capo della caserma con il progetto fisso affeso in gun affeso in gola ma che fa questo? oh che palla il messina è impazzito è impazzito veramente io vado io è vero qua ma chi ti passo? tiè ma chi ti passo tiè? stai pianto a te che ero libero perchè sono quello che fuori? è vatti buone vatti buone ora metti pure tu guarda che onore non ci pia tutto quanto ma che fai? ma che fai? sto partendo sulla fascia senza pallone sto partendo no il toscano sarà uno che perderà dei campi sai? è uno che ha perdito già ha perso ma no ma no il cocco il cocco ce l'avevo eh po padre pio è veramente un infame ma mi hai sentito un infame non so di che hai fatto cosa un attimo infame brava oh oh ma che tiri merda a giro qui li aiuto dritte per dritte a giro a giro ma c'ero cazzo no quindi io attivo la telecronaca si oh tiro mi fa ridere la telecronaca perchè di senato dice quasi senza senso attivo il tiro a giro poi avete il tiro di collo piede piede cos'hai visto? WHAT DO Y ALL ma vuoi tirare la mano cuerda quello che... HAHAHAHHAHAh ma vuoi tirare la mano 총 che puoi tirare, questo? l'allenatore del gruppo di adattacchi di gennaro rino racconto la chiave a padre pio l'ho passata così c'erloco poter pio adattisti che parlai a me non va riuscire perché c'è che su mamma comunque c'è il codo fai a ganso mendez ma come ti metti il zio non c'è il ragionismo per un boccacchino guarda peppe non puoi te la dirci così non devi fare così mamma mia dai ho messo a piatto zio devi fare zio non devi fare così ma dici cosa ho fatto zio? cosa ho fatto andò? no non vuoi zio non mi hai dato un bacio come le capo a gemma ti voglio bene figlio che schifo mamma mia bellissimo quel boccacchino eh ma che cule però che te ne sticca mamma mia veramente tutto strana cos'è me la sono immaginata come scena eh vabbè ho ricordato la faccia di ma che vuoi fare vongolo ho ricordato la faccia di quando quando hai chiamato a gemma tu zio ha detto la faccia effemma non è lo stanno come l'ha gustato il loco che serve non è lo stanno regaliremo con un boccacchino perché non sapevo che c'era lì come se io lo dovevo dire io che il figlio è un omosessuale cioè io non lo so io lo dovevo dire io che questo figlio è un omosessuale che bello vabbè vabbè aspetta sono velocissimo eh eh vabbè 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 che sei bambino vabbè 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 pattrattà la caserma non la devo nominare più la caserma porta fortuna la caserma è come... ah c'è fortuna intanto la caserma prima che l'hai fatta fa due assist è un gol però l'abbiamo persa quella partita ti ricordi eh vabbò faniglia però almeno l'abbiamo fatta per la caserma per l'onore dei nostri pulizziotti pulizziotti e carabicchieri ma vaffanculo i carabinieri non possono usare questo linguaggio i casermari i casermari noi ci facciamo di cocaina e copriamo mignotte e transe ora mi bloccano il video strike per parolacce mmmmm ma che fa stupi seal ma eh vabbè ma che culo per te però mamma mia che culo iai voglio... questa partita non si doveva fare sto un cozzato stavo partito ma che fa ma perchè ha tirato ma infatti non hai tirato l'hai passato cerchio x ho premuto cerchio x finta di tiro tua madre è quella grande puttana è una grande trovia ma no guarda là tu dovresti avere meno stamina di me come è così questo fatto perchè io sono un nero potente che... io sono un po' Angelica se quel tipo si innamora di un'altra significa che non è la sera non è la sera non è la sera se quel tipo si innamora di un'altra non è la sera 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 che te lo sai no lo so che te lo sai i pdc lite ah beh con la huawei è la cosa più semplice del mondo per la rincessione scherzo sesso duro sesso elegante oh che palla paz toscano qualcuno morirà anche se la partita inizia da mezz'ora sono pronto sto prendendo 5 non mi viene scandalo e tu e tua e tu e tua parlava col terzino ah ok grazie che c***o che tenere tu mini e merda non lo spezzi cosci vado a mettere qui ma lo devo mettere eh va quattro agenti bannano quattro canali ah costumo dirà nel 7 ma da d'or si compie la rete ah guardate che stintavo eh si bravo capuano che devo fare così devo andare lungo bella parola ma ma scende comunque la sfida veramente sto mettendo troppo scimetto no però salvalo mettilo nei pilati a volte parte lo salvo questo è uno dei tanti video che non uscita no 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 non lo salvo non lo salvo non lo salvo non lo salvo guarda chissà che avrò pinzi è pieno infame guarda come sto uncazzato fai fai oh ma dove va non lo salvo non lo salvo non lo salvo era tua ma non guarda questo non basta non dovrei correre ma che ho detto che non basta guarda questo non basta ma che devi fa guarda che ne ho capito guarda che ne ho capito vede hai dove hai capito il muro questo video ci dava questo video ecco vabbè ammazzia padre e prima Sì, veramente, non mi chiede che stai pigiando pure il giro che stai toccando la palla a tre giorni, toccando la palla. Ma che sta a fare chi sta? È MIIILAN! Che fa? Che fa? Ma che fa un'altra mano? Il mio padre mi ha risposto con la scorriglia. E' palla? No. Ma ogni volta che ti dico che palla non va bene. Il mio padre mi ha risposto con la scorriglia. Pazzo, veramente. Sì, veramente, Dulu pazzo, sì. Messi è basso, Maradona è basso, Mersi era forte. Tutto il mio figlio e non cazzo. Bravo, il calaio! Bravo! Non ci ho passato a punto, grazie. Non lo vuole, non lo vuole. Ma curro, ma un goooood! Mamma mia, che nerf! Ciccita tutta la catandrina, ma ciccita, forse mi da capire. Vada, chillo, vada, chillo. Ma che cazzo è un pochino? Guarda, guarda il portiere, guarda il reflete. No, l'ho visto. Guarda un pochino, carizzo. Ma guarda, alto là il sudore. Ehi, i bambini. Sì, i bambini, i bambini. Gnotti. Io ne so quattellore che aveva visto per loro. Quello importante. Parola, ma te ne so quattro la catandrina. Te ne so quattro la catandrina. Hai più? E tu vado. È così... Ma no, no, no. He i bambini. He i bambini. He i bambini. il gol più brutto dell'anno urlo del pazzo no urlo del sesso ma che colpo non potevamo farlo prima se volo vabbè dai vabbè dai ce la possiamo fare a pareggiare dai siamo messi in disegno di siccato ah ma che culo t'è sto pure in copertina sto pure in copertina e pari in miso di drocazzo ok a posto ma lagga ma lagga perché lagga sembri tant'era ma da che sti che fa pazzi con ogni passaggio ma la fa culo ma victor quello è il mio giocatore quel pazzo ma come? ma come? guarda che la lagga sta giocando per loro ma la prima è stava yeh da, da inizio a fa' ma che grosse è ma tu sei da loro ritorno non mi questa è la partita più giusta da stare male da quando è entrato in questa fletta eeeh vabbè tutta la loro stanno andando ma che partita del fetillo mamma mia eh devo lo segnare ti devo dire devono darli veramente gli spezzicosi all'alto mamma mia cosa fa? ma si leva delle gronne come si si leva? io non ce la faccio da divare non ce la faccio da divare ma guarda il porco dio non lo so cuore non lo so cuore eh schiavevo eh schiavevo ma da quello che... ma non è possibile che... che culo che c'ha non è possibile che ci abbiano tutto sto culo ma è possibilmente possibile ma non è possibile ma non è possibile guardali tiri vai ma risciallo tenga grazie ma porca madonna tu ma passi non teni più a stagno no veramente se perdiamo questa partita io veramente mi do vado dai carabinieri e mi denuncio guarda ma ce la dove guarda la guarda la guarda la eh ok hai visto come si chiamano? no la prima è come si chiamano le gizzicà ma il fa ma hai visto le gizzicà tu scattina qua? no guarda ma... no ma mi chiamano a Gizzi pure no guarda ma guarda ma guarda qua guarda guarda qua guarda qua guarda guarda qua come il video... come il video che hai visto oggi come va che pulisce lo specchio basta basta fermiamoci fermiamoci Grazie a tutti.